E' iniziato oggi e durerà per 90 giorni fino al 15 novembre il lavoro del perito Renato Ariatti, nominato dal Tribunale di Pescara, che dovrà determinare la capacità di intendere e di volere la pericolosità sociale e la capacità a stare nel processo di Massimo Maravalle, l'operatore informatico di 47 anni, da anni sotto cure psichiatriche per un grave disturbo che ha soffocato lo scorso 18 luglio nel sonno il figlio adottivo di 5 anni Maxim, di origini russe, arrivato in Italia quando aveva due anni e mezzo. Il professionista bolognese che ha ricevuto dal GIP e del Tribunale di Pescara Gianluca Sarandrea l'incarico peritale, tra gli altri casi, si è occupato in passato anche di quello di Cogne, della perizia su Anna Maria Franzoni e Bernardo Provenzano. La difesa di Maravalle, rappresentata dagli avvocati Alfredo Forcilo e Giuliano Milia, ha nominato come consulente Marilisa Morosi, responsabile del Centro di Salute Mentale di Pescara, la stessa che analizzò il bombaroro Roberto Di Sante. Nei prossimi giorni Ariatti visiterà nella casa circondariale di San Donato Massimo Maravalle, dunque inizierà ad analizzare le condizioni psichiche dell'uomo che, come da lui stesso dichiarato nel corso dell'interrogatorio, aveva sospeso autonomamente le cure quattro giorni prima dell'omicidio del figlio. La perizia sarà discussa nel corso dell'incidente probatorio, fissato per il 25 novembre alle 15 nel tribunale di Pescara. E quel giorno si saprà probabilmente se quel papà così affettuoso, trasformatosi improvvisamente nell'assassino del figlio adottivo, fosse in preda a quei deliri che, come ha detto agli inquirenti, lo avevano spinto a credere che qualcuno complottasse contro il piccolo Maxime e che volesse torturarlo. L'uomo, come da lui ammesso, aveva pensato anche di uccidere la moglie, l'avvocato pescarese Patrizia Silvestri, mettendogli la testa dentro una busta di plastica. Parallelamente, intanto, prosegue l'inchiesta coordinata dal pubblico ministero Andrea Papalia per fare ulteriore chiarezza sulla vicenda. Nel mirino degli inquirenti della squadra mobile della questura di Pescara è finita la pratica di adozione di Maxime. Dai documenti, già in mano alla polizia, non è emersa alcuna traccia sui disturbi di Massimo Maravalle. Gli inquirenti hanno anche ricevuto la pratica di adozione russa, in cui è risultato lo stato di quasi abbandono in patria del piccolo Maxime che era finito in orfano Torofio prima di venire due anni e mezzo fa in Italia. Un'inchiesta è stata aperta anche dalla procura russa.